Lo avevamo anticipato già ieri, parte di Corso Vittorio Emanuele da questa sera e fino a venerdì mattina sarà interdetta al transito per riparare un guasto a un tratto di condotta fognaria di Corso Vittorio Emanuele. Contestualmente si procederà a verificare eventuali collegamenti con il tratto di condotta di Via Leonora d'Aragona, da giorni non percorribile. Un intervento richiesto dall'amministrazione comunale al gestore del servizio idrico integrato che, vista la centralità delle arterie, verrà effettuato nelle ore serali per arrecare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare. Girgenti Acque, tramite una propria impresa, interverrà precisamente questa sera a partire dalle 21 e fino alle 8 di venerdì mattina in corrispondenza del civico 126 di Corso Vittorio Emanuele. Per creare un bypass al traffico veicolare durante l'allestimento del cantiere, il posteggio di Piazza Mariano Rossi rimarrà libero. Nel dettaglio queste le modifiche alla viabilità. Chi viene da Via Incisa potrà proseguire per Corso Vittorio Emanuele con direzione Steripinto, oppure potrà entrare nel parcheggio di Mariano Rossi e proseguire per un tratto di Piazza Scandaliato per immettersi subito in Corso Vittorio Emanuele, costeggiando la chiesa di San Domenico. Dall'altro lato, chi viene da Piazza Friscia dovrà imboccare la Via Licata. Chi scende da Via Roma dovrà girare a sinistra con direzione Villa Comunale. Grazie a tutti.